Questo per te è un anno personale numero 3. Espansione, creatività e comunicazione. Esci, esplora, socializza, esprimiti, crea, gioca. Dimentica il passato, non preoccuparti del futuro, fai cose nuove e belle, svagati, sfogati, divertiti, dai forma alla tua creatività, fai ciò che ti fa stare bene, esprimi le tue emozioni, comunica con il mondo. Energia caotica, semplifica, pianifica, priorizza, resta responsabile, finisci ciò che inizi. Emozioni amplificate, evita negatività e conflitti, guarda il lato positivo, scegli allegria, ottimismo, gratitudine, spensieratezza, ma con saggezza.